La Bicamp, affari conti con l'ambiente, siamo con Marco Fratoddi, la nuova ecologia. È un gradito ritorno. Grazie, anche per me devo dire. Questa mattina, insomma, lavori concitati, avete trattato diversi temi, insomma, farci un riassunto. Ebbene, non è facile perché abbiamo toccato molti punti, però certamente larga parte della discussione mattutina è stata dedicata alla fase di transizione nella quale si trova l'economia italiana. E alcuni fatti di attualità dimostrano come siamo giunti in qualche modo ad un punto di no ritorno, in qualche modo i nodi vengono al pettine e ci troviamo di fronte alla necessità di innovare. Abbiamo parlato a lungo, ad esempio, del caso dell'Ilva, che racconta come un processo di innovazione non sia avvenuto durante i decenni di vite che ha avuto questo impianto sulle proprie spalle, peraltro a scapito della salute della popolazione tarantina, e oggi cambiare è diventato obbligatorio. Ma siamo in grado oggi di cambiare in corsa, peraltro durante una fase di crisi economica, innestando degli investimenti che possano far sì che a Taranto si continui a produrre acciaio, perché l'acciaio è una materia prima importante anche per la green economy, senza provocare la quantità di morti e di malattie che dimostrano gli studi epidemiologici. Ecco, il grosso interrogativo sta proprio qui adesso, è in corsa, questo cambiamento è praticabile, a quali condizioni? Certamente è urgente, questa è una certezza. Con quali strumenti riusciamo ad andare verso la green economy in un paese che ha trascurato certi processi di innovazione e su questo la classe dirigente ha grosse responsabilità? Senti, una domanda invece ad un esperto, vorrei dire, sulla comunicazione, l'importanza della comunicazione in questa fase di transizione. Beh, io direi che noi dobbiamo sfruttare al massimo come area dei comunicatori ambientali questa fase perché noi sappiamo raccontare la via d'uscita che c'è dalla fase in cui ci troviamo. I problemi sono noti a tutti, li stanno raccontando tutti i media in qualche modo, perché stanno nell'attualità e fanno parte di ciò che è necessario raccontare. Ma chi lavora sulle tematiche ambientali vede le soluzioni, le sa rappresentare, possiede le competenze per rappresentare al paese come la via d'uscita sia nell'efficientamento, nell'innovazione, nell'innovazione tecnologica ma anche sociale per alludere, per raccontare, per raffigurare, rappresentare l'Italia come sarà nel 2050 senza attaccarci ad utopie, attraverso una roadmap realmente praticabile che si aggancia sulle risorse e sulle condizioni reali di questo paese che ha delle straordinarie potenzialità. Questa credo che sia oggi la missione epocale dei comunicatori ambientali e fra questi ci sono anche giornalisti. Grazie Marco Fratoddi. Grazie a voi e complimenti per questa formula dei Talk Club, mi sembra molto innovativa e consente davvero di mettere a fuoco alcuni nodi, come posso dire, attraverso un processo di conversazione autentica, questo mi è piaciuto molto. Ti percettiamo per il 2013 allora. Sarà un piacere. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.